Allora, adesso l'ultimo verso è un po' dedicato a tutti, soprattutto a Vincenzo e Antonio, e a tutti quelli che non ci sono più. E soprattutto a Gavano e a una persona anche in Canada, però non ve lo dico, magari qualcuno la riconosce, per esempio Monica Otto. Ciao, Monica Otto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.